Siamo arrivati a 4 anni, sono grandi, posso fare quello che voglio, posso prendere i piatti, posso prendere i piatti, posso prendere i piatti, ancora non hai levati amore, stasera li fai, stanotte amore, ancora non hai levati a 4 anni, come? Che devi fare? No, ho detto a 4 anni, darò i piatti, farò la cucina, eh, eh, papà, metterò il piatto al suo posto, me laverò le mani, cucinerò. Prima il pannolino amore, prima il pannolino. Sì, tutto questo, si scoppia, sono le fiamme alte 30 metri, è alto fino a noi. Il vetro è tutto caldo. Lo so, il vetro è caldo perché c'è fuoco, spostati dal vetro amore. Brucia. Spostati, spostati.